Ho visto una visita intera, una maschera perfetta, precisa, poi ha preso tutti i due militanti al suo gruppo, poi c'è la sottotessa che mi era molto interessante e devo dire che partecipare a questo contesto, a questo contesto, anche a Catania, anche a Catania, di vedere una realtà umana differente a quella che si fa per le posizioni interi giornali, è un rischio di essenziale, cioè è vero, c'è una natura, c'è una libertà, c'è la gente che si vuole divincolare con una realtà, in questo momento può essere, però in generale è la realtà che è molto importanti per creare, per molte razioni, lavorare su móvi, su mobili, su mobili, su mobili, su donne e grazie si succedono, ma anche su uffici, quindi ti vanno a dire tanti veri, ragazzi, vuol dire che io ho fatto solo canzoni peccatori di madre, canzoni tradutti, quasi mai fatto con lo sonoro, insomma con lo sonoro. Lui si dice, ho fatto tante canzoni, anche per me, ma anche per me, però io credo che le canzoni peccatori di madre sono quelle che da 40 anni ci sono male. Quindi, è come io, sono dell'epoca di politismo, quindi ho le relazioni con i campani, con i cittadini e l'entra, ma allora sono canzoni, un sangue, un pedigio, sono le grosse univezze che siamo, che hanno preparato l'artistico e che hanno aiutato. Ma anche, come ho detto, i Flintstones e la strada, e tutti quei cartoni di Tom Izeri, sono un'unica musica difficile a giocare. Però, divertente, cioè sembravano facile, e questo è stato il mio punto, la partenza che avevano a scrivere. La musica ti informò in un modo, al di fuori del canzoni del libro, quando si doveva un canzoni erano così, a me non piaceva, ma anche, ero carino, però non erano bambini, un po' del cittadino, la davanti, senza i denti, una magnanica... e anche io non so sfruttare con questo po' di fare il canzoni del canzoni, e alla prima attenzione del cittadino, con un frutto, ci avevano dato dentro, avevano cercato a portarmi in un testo e poi con la musica. Avevano chiamato di evocare i seri, come sempre un po' del canzoni, sempre un modo di cantare, cioè che era divertente, ma apportava la sua energia a quello che mi voleva. E in realtà è così. Bene, allora lo sentiamo, io voglio invitare Silvio Puzzotti, la sua esperienza e il suo ricordo a questo lavoro.